Le malattie oncologiche lasciano ferite nel corpo e nell'anima di chi ne viene colpito. Patologie che, soprattutto per una donna, rappresentano un colpo durissimo anche nell'aspetto fisico. Alla sua femminilità, perché molto spesso, a causa delle cure chemioterapiche necessarie per combattere la malattia, si verifica la perdita dei capelli. Una sofferenza doppia, dunque, che tuttavia può essere alleviata indossando una parrucca. Un problema del quale si è fatta carico la consigliera regionale Aida Romagnolo, che si è battuta e continua a farlo per sostenere le donne affette da malattie oncologiche e che si è vista accogliere di recente la richiesta di aumentare il contributo per l'acquisto di una parrucca da 250 a 400 euro, modificato anche il limite dell'Ise che sale così a 40.000 euro. Purtroppo, ha sottolineato la Romagnolo, i malati oncologici vivono un dramma e la perdita dei capelli non fa altro che aggravare la loro situazione. Tanti decidono di non utilizzare la parrucca, ma tanti altri ne sentono assoluta necessità. Era doveroso supportare chi deve affrontare questa spesa, ha detto. Purtroppo, non tutte le donne possono permettersene una, e così, ci segnala una nostra telespettatrice, si tenta di accedere al contributo non sempre con successo. Le procedure per ottenerle sono talmente farraginose che alla fine molte rinunciano. Alla domanda per accedere al contributo è infatti necessario allegare una mole di documenti tra quali la situazione immobiliare e quella finanziaria riferita a conti correnti, depositi di titoli, contratti di assicurazioni, auto e veicoli di proprietà. Insomma, per ottenere questa somma è davvero necessario produrre tutta questa mole di incartamenti. è l'amara domanda della nostra telespettatrice che da anni combatte contro la malattia. A malincuore ha dovuto rinunciare al bonus erogato dalla Regione. Sarebbe bastato, dice, allegare alla domanda una relazione dettagliata dell'oncologo di riferimento, rendendo tutto più semplice e restituendo un sorriso a chi ormai lo ha perso da tempo.